E' stata nominata la nuova consigliera di fiducia dell'Università di Camerino. Si tratta dell'avvocato Cristina Perozzi che nei giorni scorsi ha incontrato il rettore Graziano Leoni, unitamente alla prorettrice, alla persona, benessere ed opportunità Sara Spuntarelli e dalla presidente del Cug Stefania Silvi. Noi abbiamo incontrato l'avvocato Cristina Perozzi, consigliere di fiducia Unicam. Sentite l'intervista. Sono il nuovo consigliere di fiducia dell'Università di Camerino, sono onorata di aver ricevuto questo incarico che è veramente prestigioso secondo la mia opinione, ma è soprattutto utile in un contesto sociale a vocazione così internazionale dal punto di vista didattico come l'Università di Camerino. Quindi per me, oltre al fatto che è un'università così importante nel territorio della regione in cui io sono nata, è una figura che serve di contatto rispetto alle esigenze che studenti, ma anche tutta la comunità universitaria, quindi anche dipendenti e docenti, possono manifestare rispetto a problematiche relazionali e a, lato senso, violazioni del codice etico universitario. Il codice etico è appunto la fonte sulla quale noi andremo a lavorare, cercheremo di diffonderlo e di sollecitare una cultura collettiva in questa comunità universitaria così bella. Abbiamo tanti studenti stranieri, quindi avremo anche un'attenzione particolare rispetto ai bisogni di questi studenti. Io sono a disposizione, come ho già confermato al magnifico rettore stamattina, e tutta la classe docente, le professoresse, le docenti che mi hanno accolto, alle quali io esprimo di nuovo i miei sentiti ringraziamenti, ma anche agli studenti che hanno rappresentato il consiglio studentesco, con i quali mi sono attardata finora a parlare, a condividere nuovi progetti e nuove visioni per il futuro.